A vincenti gli anticipi della nona giornata di campionato nel girone C di Lega Pro a cominciare dal Cerignola capolista in solitaria con una gara in più e che regola la pratica Sorrento con un netto 2-0. Per i pugliesi di Mister Raffaele apre le danze il difensore Vicentino al minuto 22. Il raddoppio al Monterisi è firmato dal solito Salvemini al 61esimo. Nulla da fare per il Sorrento, le Cicogne volano a quota 18 punti in classifica. Due ai derby della serata a cominciare da quello campano dove la Turris dopo la penalizzazione mette a segno uno scatto d'orgoglio sul campo della Cavese di Mister di Napoli. I Corallini si portano in vantaggio con il gol di Giannone al quarto d'ora del primo tempo. Arriva poi il raddoppio nel secondo tempo al minuto 54 ancora con Giannone stavolta su calcio di rigore. Prova la Cavese a reagire e accorcia la distanza al 72esimo con Sorrentino ma non basta col paccio Turris che porta a casa la prima vittoria in trasferta del suo campionato. Il risultato più sorprendente però arriva dal provinciale di Trapani dove il derby contro il Messina diventa un incubo per la formazione di Aronica. Eppure sembrava essersi messa bene con l'espulsione al 22esimo di Anzelmo che si becca due gialli in soli tre minuti. I Peloritani trovano però la forza di passare addirittura in vantaggio nella ripresa con Ana Triello al minuto 49 che gela i tifosi trapanesi. I padroni di casa tentano gli assalti nel finale al 93esimo la rete del pareggio che ha comunque il sapore di una sconfitta con il colpo di testa di King Udo. Due pareggi di fila per il Trapani, il Messina esce in denne.